Un saluto a questo studio straordinario di Mastriscia! Allora, dunque, amici, argomento un po' particolare, perché il presidente emerito, Giorgio Napolitano, ha espresso contrarietà rispetto alle elezioni anticipate, dichiarando che, insomma, in un paese civile si vota alla fine della legislatura. Ecco, alle parole di Napolitano gli italiani hanno reagito con preoccupazione, ma povero uomo, in un paese civile. E' stato due volte presidente della Repubblica e non si ricorda manco più che siamo in Italia. Ma quale paese civile? Ma dai, presidente!